Il mio papà e la mia mamma Io non so se si usa a Roma ma qua da noi si usa quando Questa era della sua bisnonna Sì, è per te Poi per la sua nonna E poi anche per la sua mamma Prima ancora della bisnonna, della bisnonna, della mia bisnonna Devo dirti che sono abituato facendo le serate a passare in mezzo a tanta gente Quindi è una prova in più per continuare questo lavoro Anche perché loro credono che noi gli facciamo un piacere Ma sono loro che fanno un piacere a noi Perché se non ci fossero loro noi non saremmo niente Il rapporto con Pupi Avati? Come sta? Come si fa a non voler bene a Pupi? È una persona meravigliosa, un regista fantastico Quindi il rapporto con Pupi Avati è splendido Un ruolo inedito Sì, un ruolo inedito Anche perché è il più drammatico del film Quindi tu pensa